Carlo Carretto ha scritto al di là delle cose nel 1968. Io ho letto questo testo per la prima volta nel 1992. La bontà e la misericordia di Dio mi hanno ricondotto nel deserto. Di giorno mi sto riempiendo gli occhi della luce delle donne stupende di Benia Bess. E di notte resto ore e ore a farmi penetrare dalla pace che viene dalle stelle, ammocchiate a miliardi nella galassia, che con la sua fluorescenza luminosa pare fatta apposta per ricordarmi con forza e dolcezza. La nube luminosa dell'inconoscenza di Dio sulla mia marcia nel deserto della vita. Com'è lontano lo spirito di Francesco dalle strade della gubbio moderna. Il lupo torna ad essere braccato con la roncola e si vuol vedere il selciato bagnato del suo sangue. Gandhi vi direbbe, datemi un popolo che creda all'amore e voi vedrete la felicità su questa terra. E Martin Luther King aggiungerebbe, abituate un popolo a dominare l'istinto della vendetta e avrete un'autentica nazione di uomini liberi. Non pensare ad altro. Dio è davanti a te. Contemplare non significa guardare, ma essere guardati. E lui è là che ti guarda. E se ti guarda ti ama. E amandoti ti dà ciò che cerchi, se stesso. Non potrebbe esserci altro dono per chi ha cercato tanto. Il cuore nostro è insaziabile. Dio solo ci basta. Le cose, mai. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.